Stanno bombardando, adesso qui dietro, vedi il cumo? In questo momento qui in Ucraina, secondo gli accordi di Minsk, tutte le armi pesanti dovrebbero essere state ritirate dalla linea del fronte, però guarda, dietro di noi, a Yasenavata, combattono le posizioni degli ucraini e dei filorussi, si sentono benissimo i proiettili. Stiamo andando via perché, senti, ci stanno praticamente sparando addosso, stiamo quasi in mezzo alla linea di scontro tra le due fazioni. In februari 2015, pro-Russian rebels and the Ukrainian government had reached in Minsk an agreement for a ceasefire. But here, in the Donbass, one year after signing these agreements, the clashes between Ukrainian forces and separatist militants, who do not recognize the government post-Maidan, continue. In April, the violations of the truce reached record figures, the clashes grew in intensity, and the numbers were back to the levels of summer 2014. If we were to talk about the last part, the start of the war, yes, we are waiting for them. And as a example, I can just bring the equipment that they took from the war, but there are more military aspects of the war, and the police are close to the clashes of the clashes. This is what happens when we are preparing for the war. What once was an elementary school is now the general separatist headquarters. that the Ukrainian army is trying to conquer to gain control of Gorlovka, the second largest city of the People's Republic of Donetsk. Hundreds of shells that we find on the floor show that here the fighting is still intense. You can feel the desperation here after a mortar round hit the refectory yesterday morning, killing seven militants. Two days ago, the tanks hit the wall. Here the guys came, they ate the weapons. They absolutely do not follow them. They do not follow them. They do not follow them. There are 420 meters in direct. If you can even look at it, there is a passage behind the wall. This is the Ukrainian army. Three days to start and finish in 4 in the morning. There was such a thing. This is the TUR-116. This is the TUR-116. It fell in the wall. This is the Ukrainian army. This is the Ukrainian army. There were the Germans, the Tatars. There was the right sector. This is the right sector. I don't know, according to the evidence, the truth or not, that the Germans were flying. The German army, 0.5 km. The arrival of the 100 people is in the only position of the Nationalist Battalion. All the soldiers have a black suit. A part of them are talking on the English and American dialect. Alright, rock and roll boys. Let's go. We're going to go right over here. We have to fly. 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 Outside the building, we find all the remains of the weapons that come from the other side of the front, including mortars, grenades and RPGs. There is everything. There is a crater of phosphorus bomb, too, prohibited by international conventions. For this reason, the remains of the bomb were collected and delivered to the OSCE observers. This is a civil war. Have you ever tried to fight against your friends, your brothers? Yes, I have a friend. Even two friends. When I was working for a long-term service, I was on the side. When I told him that when we meet, we will be able to hug. We were brothers, but at one point we became enemies. We were enemies. We were enemies. We were enemies. We were enemies. For me Ukraine died. For me Ukraine died. We were enemies. We were enemies. When I was thể – the front of the cross was opened. We were enemies. There were people who were enemies. There were people who were enemies. And there was many of them. We were enemies. And we heard the political news every day. Lugansk è una città che ancora mostre i signori della guerra una guerra che dopo il secondo Minsk ha diventato un conflitto hybrid in cui ci sono molte violazioni di truce constanti ogni settimana l'OSCE dettiene centina di esplosioni in Lugansk e si affettano principalmente i civili Siamo appena arrivati a Lugansk anche qui il centro della città è veramente devastato e porta i segni pesanti di questa guerra per esempio qui c'è un asilo che è stato colpito da un mortaio nel luglio del 2014 per fortuna qui non c'è stata nessuna vittima perché quando questo asilo è stato centrato erano le 6 del pomeriggio e i bambini erano appena usciti ma immaginate la follia di sparare a caso dalle postazioni in periferia verso il centro della città colpendo obiettivi civili questo è il mercato di Lugansk un altro obiettivo civile ad essere colpito qui è accaduto un colpo di mortaio in piano giorno il mercato si è incendiato e sono state tantissime le vittime civili guarda il tetto praticamente non c'è più questo è quello che resta di una delle principali scuole della città è stato distrutto da un airstrike nel 2014 5 persone sono morti qui dentro ci sono ancora gli scheletri dei banchi e delle sedioline la prima linea della militia separatistica è solo un po' di chilometri dal centro siamo andati alla fronte per parlare con i soldi quando la maggior parte della città è uguale hanno le tradizioni uguali hanno le tradizioni uguali hanno come un calco perlengono l'armi e per questo ci sono questi esercizi qui siamo a Giolte questa è una posizione dei ribelli separatisti lì davanti invece ci sono le posizioni dell'esercito ucraino questo è un checkpoint al confine appunto tra i territori ucraini e quelli controllati dai separatisti dove passano anche molti civili le persone qui ancora cercano di vivere normalmente inoltre la situazione Noi siamo terroristi, noi siamo terroristi, noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi, noi siamo terroristi, noi siamo terroristi. 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 Invece riguardo le condizioni di pace, se ci fosse una riforma in senso federalista e il governo di Kiev vi concedesse una larga autonomia, sareste disposti a tornare sotto il governo ucraino? Noi siamo terroristi, noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi, noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi, noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi, noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi, noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi, noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi, noi siamo terroristi. Noi siamo terroristi e non vogliono. Sono dei battaglioni nazisti, nazionalisti e combattono anche bene per quello, sono ben forniti, ben pagati. Se loro sospettano che tu sei un filo russo o aiuti le milizie filorusse, non c'è scampo. Le principali vittime di questa guerra sono stati i civili e a conoscenza di violazioni particolarmente gravi da parte dei battaglioni nazionalisti o dell'esercito ucraino verso i civili residenti nel Donbass? No, 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 no... Grazie 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 in Kyiv. Questo è quello che tutti, tutti in loro loro, iniziò a supportare le autorità separatistiche. E nel giro 2014 hanno lavorato a organizzare il referendum che ha stabilizzato l'annexazione regioni Donbass in Russia. Da questo momento, hanno iniziato a problem. A me arrestavano 50-летri di Oktebra, a me riuscì, fuori 3 persone in masca, riuscì, a dire che stavano a chiamare, non si scusate, ma qui sono i miei bambini. A me riuscì un colore con l'acqua, e io scusò in fronte. Тогда правый сектор сказал, ну как бы объявил меня в том, обвинил меня в том, что я корректировщица. С желтыми повязками на плече. Это были айдаровцы, я это четко знала. Прием был жестокий. Положили на землю, одели пакеты на голову. After being arrested, all of them were tortured. Poi in prodigio mi spavano, staggavano l'occhia, vissano un po'cchia e bello po'cchia, 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 po'cchia. Mi lomali nocchi, o tak živio. Pau держakom od lopaty, elektroshockermi, rokojatka pistoleta. Potom zastiojali руки pod kolenkami, stavili armaturu pod lokti. Меня bili, меня очень сильно bili, бili меня по голове, бili резиновым молотком, что укладывают плitku. Otbiti piatki, как u nich называется, to solnyško na lomiki, to вообще unikalne. To, kada ruči zastiojnute pod kolenkami, w naručnički, pradivajte lomik, ložite na otece mesta, i sem svoim besom, sem svoim besom, teba еще kutiat. Odjavali protivogaz, zakrivali klapana i vztajali sigaretu, i skurigali sigaretu. Меня brali za šeje, o tak davili, podnimali i bili ob strenku головu. Zatem uložili na ličo trjapku i polivali wodą, чтобы ja zachlepil. U menea perelom čelusti v trech mestah, zdiš, zdiš, zdiš i zdiš. Ne govorili, daje, zdiš, 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 zdiš. To ihnego autoriteta hvati pokryte to vse, zdiš. Zdračil na liniju. Zdračila je da zdiš. Po konce pomembne za prisa, jsi poslujo nam razili. Ale odnestva zdiš, 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 zdiš. Zdiš, zdiš, zdiš. dei giudici. e spostate da una persona che mi sono libera e spostate a casa. Ma e 9 persone sono stati in un'autobus in un'autobus e sono trasportato a un'autobus in un'autobus. Abbiamo scopato il un'autobus in un'autobus in un'autobus. Dopo questo, dopo il giorno, sono stati in un'autobus, 12 persone, in un'autobus, e sono stati in un'autobus in un'autobus. Non avevamo un'autobus in un'autobus in un'autobus in un'autobus in un'autobus. Non avevamo un'autobus in un'autobus. Questo è stato fatto quando siamo arrivati in un'autobus. Centro di persone passano nel secondo luogo di Kharkov S.B.U., ma stanno in un'autobus in un'autobus in un'autobus. Il suo lavoro è stato fatto in 2014 dal Signore dell'Unione dei Comissi dei Dimenti. Il nostro Paese è stato fatto in un'autobus in un'autobus in un'autobus. Tutti questi presi sono stati intervallati nel 6 marzo 2015. Ma la lista di persone che, secondo Sergei, stanno ancora in Kharkov è molto lunga. Lo che possiamo dire è che è una prassi che purtroppo è comune in tempo di guerra e dobbiamo ricordarci che in Europa, al centro dell'Europa, c'è stata una guerra. Io non posso che confermare che abbiamo riportato anche nella nostra documentazione su civili del Donbass filoseparatisti che hanno detenuto in detenzione segreta senza contatto col mondo esterno fino a quando non è arrivata l'occasione per poterli scambiare con personale ucraino che era detenuto dalle forze separatiste. Alcuni di loro, secondo le autorità ucraino, non sarebbero detenuti. Ma Sergei diceva che fino a februari stavano ancora in Kharkov SBU second floor cell, dove centri di persone sono detenuti e poi trasferono in l'acqua. No, non posso, perché in primo bloc posto mi sono detenuti. perché sono stati in risultato per questo problema. Il problema non è aperto. Il problema è successo. Il problema non è vero. E c'è la probabilità di che io volerò ancora in l'acqua e non potrei tornare da qui. Questo è lo scantinato dove loro vivono quando ci sono i bombardamenti più pesanti. Qui c'è la stufa, questo è il letto, la rete. In questa camera piccolissima dormono in sei persone. Questa è Trudovski, è un quartiere della periferia sud-ovest di Donetsk. Qui quasi tutti i giorni cadono colpi di mortaio e guarda, le case sono tutte distrutte. Questa è la gente di ritorno, grazie ai comunitario. Non c'è nulla che cuore. Pugliai sniperi. Noi non eravamo in 2014. Noi stavamo all'interno. Noi stavamo in giro. Abbiamo preparato una piccola piccola, una piccola piccola. Noi avevamo solo scopo e preparare i bambini. Se fosse una piccola piccola, ovviamente stavamo in giro. Alcanzialmente è bello, ma i bambini non riesce a riscaldare. We leave Trudovskie and move in another neighborhood close to the front line. Siamo all'ingresso di Spartak, uno dei quartieri più colpiti dal conflitto. Per arrivare qui c'è davvero la devastazione per strada. Qui sono particolarmente attivi i cecchini. Anche noi in questo momento potremmo essere un obiettivo per loro perché lì dove c'è quella fabbrica, ex fabbrica di carbone, a soli 300 metri sono le postazioni ucraine. Il suono dei bambini ci accompagna quando stiamo verso le strade del quartiere, tra le distruttate e abbandonate, e le domande di quelli che hanno deciso di restare. Guarda, questo è uno smerche, una delle armi più terribili e più mortali che è stata usata in questa guerra. E questo guarda dove è accaduto su una casa di civili. Infatti la casa è stata abbandonata, però a fianco ci vive una signora. Qui dentro vivono due pensionati. Questo cancello è stato crivellato di colpi. Nonostante questo, chi ci abita ha deciso di riverniciarlo e di riportarlo a nuovo per quanto possibile. Qui hanno scritto sulla parte di questa casa St.S.G.U.T. Qui ci vivono per segnalare ai militari che devono prestare soccorso dopo i bombardamenti che qui ci sono delle persone. Intanto stanno continuando a sparare, si continuano a sentire colpi dei fucili. Qua vicino? Qua vicino? 300 metri, 200 metri. Sono sparando con i fucili automatici. Qui vivono in sessanta. Spesso sono dentro i bunkers, però di giorno vivono in abitazioni di questo tipo. Questi cittadini sono fatti di fucili. All'interno ci sono solo essenziali bianchi, città per il calcio, un cucchiaio improvviso, e qualche cucchiaio. Valia, downhearted, racconta la vita sulla front linea. La signora ci ha spiegato che in quella capanna loro vengono a mangiare, però tutto il tempo vivono qui sotto. Sono tre famiglie e questo è una sorta di bunker per evitare di essere colpiti dai missili che arrivano. Dice, qui è sicuro perché ci sono tre strati, ci sono tre strati di solaio, quindi qui non passano i missili, per cui non si sono trasferiti qua. Al giorno quante volte venite colpiti? Oh, senza dubbio. Io vengo a 6 ore al mattino e a 6 ore al mattino non c'è l'elettrice. Non c'è l'elettrice. Che ci aspettiamo? Viene la guerra. La signora adesso ci sta facendo vedere dove viveva invece prima. Stiamo visitando l'apartamento, è chiaro perché Valia ha deciso di andare al bunker. I nostri guideri ci dà una notizia mentre passiamo sulla strada in un'altra casa. Non possiamo andare oltre questa curva perché qui siamo direttamente sotto il tiro dei cerchini, cioè se entriamo in questo incrocio siamo sotto il tiro degli snipers. Ora siamo arrivati nella casa Svetlana. Ella vive qui con la sua 67 anni che, a causa di un problema con la pelle, è immobilizzato in una ruota. La signora dice che le ho chiesto come va tutto a posto, mi ha detto che qui non c'è niente a posto, non c'è niente a posto. non so se non è possibile vivere in modo normale. La normality è un concetto sconso per gli popoli di Gorlovka. Quando arriviamo a Zaitzevo, una parte dell'area di questa piccola nortica di Donetsk, siamo forse per portare bulletproof jackets because here they also shoot during the day. And now we're going to the hospital. As you can see, the bombs that arrive don't make a difference between civil and military goals. This is a house built by civilians and, as you can see, is completely destroyed. Come here, look, the lady is telling us that the gun that arrived from the Ukraine station and, as you can see, has passed the window, has broken this wall and is locked from the other side. There was a bed, I was sleeping here, of course. I was living here. They were in the house of the lady. They could be here to work. They hit them. They're shooting at the house. These are the houses destroyed in the village of Visioli. Here there are still 50 people next to Donetsk. In this neighborhood there were more than 5,000 houses. Every house in this neighborhood has been hit at least twice. Here, people don't have to eat enough, there are no shops, so they survive, especially thanks to humanitarian aid. I don't know how this can happen. How can they kill each other? How can they kill each other? I don't know. They don't sit at home, they don't have a house, they don't have a house, that they sat here 5 meters from us, 5 kilometers, and they shoot every day every day. They fly, they just shoot. What makes them happy? I don't know. How can they kill each other? They know that there is no one. There are some old men and 10 people living here. They still don't know everything. It can be that they don't know. They just shoot. They are completely destroyed. The village is destroyed. The houses are destroyed. There are no water, no heat, no gas. We live in the village. They are now 2-3 days. They don't shoot. And today's day was heard. They hit yesterday's day. And before that, again, the bullets are flying. Two years in one place they shoot. In one place. What is this war? No, no, no. I would have been there. We were there. There were soldiers here. Yes, really. But we haven't left anyone here. And in peace people. But why are people in peace people fighting? We, of course, were there when we were. We have also the Ukrainian passport. But why are we not the Ukrainian passport? Non vivono, è troppo pericoloso per i bambini. È un pochettino. Ma non ci sono i servizi. Non puoi fare, non è niente di che. Siamo davanti a uno degli alloggi collettivi di Donetsk. Nella città ce ne sono circa una decina e in questo qui abitano 500 persone di cui 120 bambini. Tutte le persone che abitano qui dentro sono persone che hanno perso la casa perché è stata distrutta durante i bombardamenti e molti sono ostaggi civili che sono stati scambiati con i soldati ucraini dalle autorità. Noi seguiamo Sassia, che ci mostra il cammino alla quale città del bambino. La maggior parte delle persone che vivono qui hanno perduto tutto, le loro famiglie e le loro job, per favore della guerra. E hanno salvato con la scuola che hanno ricevuto dalla Repubblica e dalla aiuta humanitaria. I corredori sono scopiati e le condizioni viventi sono le stesse come un paese terzo mondo. Sì, a primo piano ci sono le donne, il palazzo ha 16 piani. La mia moglie è un po' forte, anche la signora si è lamentata, si è scusata, anche se no. Tutti cercano di decorare le loro domande come si possono. Qui una piccola tavola può anche diventare un bambino, per farlo per la cena. Di queste porte, ogni persona ha la sua storia triste. Per esempio, Sassia era torturato dai soldati del settore direttore. Vittor, invece, ha lasciato il suo casa quando l'Ukraine ha iniziato a fuori civili. Una volta che sono arrivati questi battaglioni, che hanno iniziato a sparare contro la popolazione, io sono scappato subito. Queste sono le coperte delle Nazioni Unite, l'Agenzia per i Rifugiati, quindi, insomma, è tutto sottonato qui. As we walk down the hallway, Svetlana stops us to share her experience. La sua casa si trova sulla linea del fronte, il bambino di Petrovski. Ho paura di vivere lì, perché sono saltati tutti i vetri. e anche oggi si ritrova sotto il bombardamento. Io vivo sa l'Agenzia, mi vivo qua dal vostro, e che si tratta da dove, da dove, da dove, da dove, da dove, da dove. Quindi si tratta di una parte o dall'altra, appunto, veniva bombardato. Io non posso. Ivan non vuole essere filmato, ma ci prende il suo ruolo per mostrare il video della sua casa riduzionata a rubel. Andiamo a camminare improvvisati e tenni curiosi, continuiamo la nostra tour all'interno. I bambini vivono nel palazzo, i bambini vivono nel palazzo, i bambini. I bambini come lui. Il vive con la mia madre e ci dice che perché la guerra ha perduto tutti i miei amici. Hai paura della guerra? Sì, è vero. Quando c'è qualcosa è vero, è vero. Due anni di conflitto e l'embargo facendo la popolazione assicurata e fatta. Ma i principi victimari sono i bambini. Si trovano loro soli, confuso, scurati. Ogni giorni fanno una guerra che non possono capire o capire. Grazie a tutti. 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 Grazie. Da lì si vede il cannone del carro armato con dentro ancora i corpi dei militari che appunto si trovavano qui. Siamo andando all'aeroporto a visitare il terminal dove si è svolta una delle battaglie più strategicamente importanti della guerra nel 2015. E ci hanno detto di tenere i finestrini aperti perché dobbiamo stare molto attenti a sentire i suoni. Nel caso in cui cadessero dei colpi di mortaio dobbiamo essere pronti ad uscire immediatamente fuori dalla macchina. L'aeroporto di Donetsk, più di altri, sarà ricordato come il simbolo di questa guerra. Secondo i dati rilassati dagli Uniti, da l'anno scorso del 2014, quasi 10.000 hanno perduto le loro viste e più di 20.000 hanno stato bruciato. Ecco, in questo momento poche centinaia di merdi da noi stanno combattendo qui all'aeroporto di Donetsk. Guarda, dobbiamo andare veloci. Zelenco, vedi? Da. E' le posizioni ucraine. Allora, quelle sono le posizioni ucraine. I soldati ci portano i passaggi di una volta che erano i bambini terminal, che avevano già stato remodellati per l'european Soccer Championship del 2012. Chi controlla l'aeroporto controlla la città, stanno dicendo. Per questo motivo hanno combattuto per 242 giorni lunghi giorni, fino a januari 2015, quando i rebel separatisti prendono controllo dell'aeroporto, cambiando i risultati della guerra. Qua stiamo camminando in uno dei terminal dell'aeroporto. Lì a Peschi ci sono le posizioni ucraine, che in questo momento stanno sparando da questa parte, verso il quartiere di Spartak. Guarda, qui veramente c'è la distruzione più totale. Il perimetro è di 500 metri, in ragione. Non c'è nessuna terra. Non c'è nessuna terra. Tutti? Tutti? Tutti! Lì c'è Adievka, dove in questo momento si sta combattendo. Senti risparmi! Dopo le ultime settimane, l'armeria dell'aeroporto ha realizzato la bomba. Ora, verso le squelette dei bambini. E, secondo la autorità separatistica, l'aeroporto è uno dei posti più effettuati dalla guerra, anche per la truce di Minsk. L'accusazioni della truce di violazione, ovviamente, sono reciprocali. Ma qualcosa è vero. A due parti, ogni giorno, molti soldati stanno morti. E non è impossibile determinate, quanti persone hanno perduto la loro vita in la battaglia per l'aeroporto Donets. Let's leave behind us the rubble of the buildings, riddled with bullet holes. They are the most evident symbol of this fratricidal war, which is boosted under the huge geopolitical and economic interests, and which, sadly, is still killing people. Da lì si vede il cannone del carroarmato, con dentro ancora i corpi dei militari che appunto si trovavano qui. L'aeroporto dell'aeroporto, a visitare il terminal dove si svolta una delle battaglie più strategicamente importanti della guerra nel 2015. E ci hanno detto di tenere i finestrini aperti perché dobbiamo stare molto attenti a sentire i suoni. Nel caso in cui cadessero dei colpi di mortaio, dobbiamo essere pronti ad uscire immediatamente fuori dalla macchina. L'aeroporto di Donets, più di altri, sarà ricordato come il simbolo di questa guerra. Secondo i dati rilassati da Uniti, da l'anno scorso del 2014, quasi 10.000 hanno perduto le loro lives, e più di 20.000 hanno stato bruciato. Ecco, in questo momento, poche centinaia di metri da noi stanno combattendo qui all'aeroporto di Donetsk. Guarda, dobbiamo andare veloci. Zelenco, vedi? Da. 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 Ma sono le posizioni ucraini. I soldati ci sono passaggi del passaggio di quanto erano i terminali che avevano già stato remodellato per la campione di soccer europea del 2012. Chi controlla l'eroporto controlla la città, stanno dicendo. Per questo motivo, hanno combattuto per 242 giorni. fino a januari 2015, quando i repubblici separatisti prendono controllo dell'eroporto, cambiando i risultati dell'eroporto. Qua stiamo camminando in uno dei terminal dell'aeroporto. Lì, a Peschi, ci sono le posizioni ucraine, che in questo momento stanno sparando da questa parte, verso il quartiere di Spartak. Guarda, qui veramente c'è la distruzione più totale. Il perimetro è 500 metri, in ragione. Non c'è una terra, tutti sono bloccati. Tutti. Lì c'è Adievka, dove in questo momento si sta combattendo. Senti risparmi. Durante le ultime settimane, l'armeria ucraina ha iniziato il bombaggio, ora sulle scheletoni dei bambini. E, secondo la autorità separatista, l'eroporto è uno dei posti più affettuati dalla guerra, anche per la truca di Minsk. truce. The accusations of truce violation, of course, are reciprocal, but something is true. On both sides, every day, many soldiers are still dying, and it is impossible to determine how many people lost their lives in the battle for the Donets airport. Let's leave behind us the rubble of the buildings, riddled with bullet holes. They are the most evident symbol of this fratricidal war, which is boosted under the huge geopolitical and economic interests, and which sadly is still killing people.